ciao sono elisa montin in arte helly e sono la batteria da oltre 20 anni sono stata eletta miglior batterista al mondo dal concorso hit like a girl ed ho vinto diversi concorsi nazionali mi sono esibita in alcuni tra i più prestigiosi scenari del mondo della batteria drum channel musician institute a los angeles il basic a indianapolis nonché lo storico evento la lunga notte della batteria dedicati memoria del padre della batteria italiana enrico lucchini ed è proprio da uno dei suoi massimi allievi che ho studiato ovvero dal maestro sergio pescara perché ti sto mostrando questo video ho organizzato un corso speciale al fine di farti vivere un'esperienza unica ed indimenticabile se non hai mai suonato la batteria oppure già la suoni voglio offrirti la possibilità di vivere l'esperienza della registrazione in studio alla fine del corso otterrai il video e l'audio della tua esecuzione che sarà frutto del tuo impegno all'interno del percorso in cui io ti guiderò scoprirai quindi cosa significa andare in studio di registrazione da cose composto esso come ci si comporta all'interno e soprattutto come ci si prepara per questa fase senza questo straordinario processo musicale dal valore infinito noi non potremmo ascoltare la musica tu non potresti ascoltare i tuoi artisti preferiti e in un certo senso potrei dire che la musica non esisterebbe davvero se quanto hai sentito ti incuriosisce o direttamente non vedi l'ora di fare questa esperienza ti invito a cliccare nel link per approfondire e scoprire maggiori dettagli ti aspetto ciao